Vediamo adesso questa situazione d'equilibrio. È una situazione con tre forze. C'è naturalmente la forza di gravità applicata nel baricentro, c'è la forza vincolare, questo è il fulcro, e in teoria tutto il corpo rigido, cioè l'asta, potrebbe ruotare, infatti se io modifico questa forza qua, ruota intorno al fulcro, che è il centro di rotazione, e questo sarebbe l'asse di rotazione. Se io ho questa forza, che chiamo forza motrice, la regolo in modo opportuno, in questo modo qui, allora riesco a mantenere l'asta in equilibrio orizzontale, quindi questa la chiamo forza motrice, in questo esempio la forza di gravità la considero forza resistente, e questo dinamometro è la forza vincolare. Che cosa vediamo? Vediamo che il fulcro e la forza vincolare si trovano tra le altre due forze, quindi tra la forza motrice e la forza resistente. Se andiamo a misurare, sappiamo già che questa valeva circa 0,8 N, vediamo che adesso anche questa forza più o meno vale 0,8 N, infatti qui c'è 0,05, ogni tacchetta è 0,1, quindi 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, e del resto questo non è strano, si capisce perché queste due forze sono uguali, la forza motrice applicata in questo punto A e la forza peso. Si capisce perché rispetto al fulcro i loro bracci sono uguali, sono tutte e due di 5 buchetti, 5 buchetti a sinistra e 5 buchetti a destra, quindi se i bracci sono uguali, per la regola che abbiamo visto prima, anche le forze devono essere uguali, quindi 0,8 N, tutte e due. E vediamo anche che, però, la forza vincolare deve essere tale da bilanciare queste due forze, queste due forze che sono appunto il peso e la forza motrice sommate insieme fanno 1,6 N, 0,8, 0,8, 1,6. E infatti la forza vincolare segna esattamente 1,6 N, perché appunto 0,05, 1,1,5, 1,6 N. Questa appunto è una condizione di equilibrio e è un caso generale, in cui rappresenta un caso generale che cosa? Che la forza vincolare è sempre quel valore opportuno che assicura che la forza totale sia 0. Quindi se non ci fosse la forza vincolare, queste due forze darebbero 1,6 N in basso complessivamente. Allora, la forza vincolare, il suo ruolo è quello di metterci quella giusta quantità di forza, 1,6 N, in questo caso, verso l'alto, in modo da controbilanciare le altre due forze e assicurare che la forza totale sia 0. Quindi noi abbiamo tutte e due le equazioni cardinali dell'equilibrio, in quanto la forza totale è 0, l'abbiamo appena detto, 1,6 N, 0,8 N, e questo garantisce che il sistema non trasidi. Poi abbiamo anche i momenti torcenti uguali a 0, il totale dei momenti torcenti. Infatti abbiamo questa forza di gravità che fa un momento torcente che vorrebbe far rodare l'asta in senso orario e quindi è un momento torcente che entra. Quanto vale questo momento torcente? Vale 5 unità, diciamo 5 buchetti, per 0,8 N. Abbiamo l'altro momento torcente di questa forza, la forza motrice, che vale lo stesso valore, perché è sempre 5 buchetti per 0,8 N, con la differenza che, siccome questa forza vuol far rodare l'asta in senso orario, questo momento torcente esce, quindi qui il momento torcente entra, qui il momento torcente esce. E poi abbiamo, quindi questi due momenti torcenti sono opposti uno con l'altro, perché uno entra, l'altro esce e hanno lo stesso valore numerico, entra e esce. Quindi il momento torcente fino adesso complessivamente è 0. Poi abbiamo il momento torcente della forza vincolare, che però vale sempre 0. Quindi la forza vincolare non fa mai momento torcente. Perché? Perché il suo braccio è sempre 0. Infatti che cos'è il braccio di una forza? È la distanza dal fulcro, in pratica. Siccome questa forza è applicata esattamente nel fulcro, il suo braccio è 0. Quindi la forza vincolare, essendo sempre applicata nel fulcro, ha sempre braccio 0. e avendo sempre il braccio 0, non fa mai momento torcente. Quindi riassumendo, abbiamo tre forze, ma solo due momenti torcenti, perché la forza vincolare non fa momento torcente, essendo applicata nel fulcro. E questi due momenti torcenti, uno entra, l'altro esce, sono uguali ai contrari, si annullano. Quindi abbiamo anche 0, la somma dei momenti torcenti. Questa è anche una leva, chiamata leva di primo genere, perché il fulcro si trova tra le altre due forze, la forza motrice e la forza resistente, e in particolare è una leva indifferente. Indifferente perché? Perché io per contrastare 0,8 newton di forza resistente, forza peso, devo fare la stessa quantità di forza, cioè 0,8 newton. Quindi è una leva indifferente perché i bracci sono uguali. Essendo uguali i bracci, sono uguali anche le forze, quindi non ho un vantaggio, non faccio una forza più piccola né più grande. Faccio una forza uguale a quella resistente perché i bracci sono uguali. Quindi leva di primo genere indifferente.